Attività di contrasto al fenomeno del caporalato da parte della polizia in tutta Italia. Nella sola provincia di Agrigento sono state identificate 70 persone e controllate 12 aziende. Sono state sospese due attività e combinate contravvenzioni per 69 mila euro. Si è conclusa quindi un'altra fase del progetto denominato Alto Impatto Freedom, che ha visto impegnate le squadre mobili di Agrigento, Forlì, Cesena, Latina, Lecce, Matera, Ragusa, Salerno, Siracusa, Taranto, Verona e Vibo Valencia, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. La prima fase del progetto era avvenuta tra il 26 e il 30 giugno scorsi e aveva visto coinvolte 6 province e 6 regioni. In questa nuova fase le province interessate sono state 11 e 8 invece le regioni monitorate. Nel corso dell'operazione è stata accertata l'inosservanza delle norme contributivo previdenziali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in alcuni casi dell'illecita attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta compiuta dai cosiddetti caporali. Tra il 17 e il 22 luglio sono state identificate in totale 632 persone, tra datori di lavoro e dipendenti e controllate 50 aziende.